Non ci credo raga, non ci credo No, sono proprio un coglione allora Sono proprio un coglione, niente, ci rientrò a fare Ma Sono proprio un coglione sono Raga 68 costa Oh scossa di terremoto Raga Raga scossa di terremoto Scossa di terremoto 58 pure Raga, fermi tutti Da te? Che? Sì Hai visto? Eh sì, ho visto Porco dio Cosa? Amministraio Vai ti apro la porta Sì Fa salire Vai 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 Posate lo stun Posate lo stun Nooo Oh Oh Ma 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 che fai? Ma che fai? Levati Levati Le Ma che Non ti azzardare Ma che cazzo Mi hanno deserato Mi hanno deserato Vai vi a stelle davanti E fra questo gli si era cato dall'arma da mano Ma che si era Vento simple Continuo peitato Ma qua c'è Spano adesso Fra Gli si era levato Ma che Emo? Ma? Oh! Ma? Tommy? Tommy? Tommy, sta ancora lì? Ma? Tommy, sta lì quello lì? No, sta cosa non è bruttissima per me. No, ma mi sa che non è niente, fidati. Ok, ok. Mi fai un il, per favore, al 72, 120. Non lo so. Lol. Ah, lì si è bloccata la chat, sporo. Ho capito. Forse si è bloccata la chat, sporo. E non fricava. Che sceme, ok. No, non uscite, ragazzi. Mamma mia, frati, farei io quando fai queste cose. Ho fatto. Per diventare un rapinatore professionista, one tap, scare bro, è nel male, ecco. Una miserata fianca. Tranquilla, oserei dire. 80, un veicolo contro mano dall'autostrada, siamo davanti all'ospedale, un fuoristrada viola. Perfetto. Non ci credo. Borgiamo. Ando verso il garage centrale. Aria, devo prendere a calci nel culo per ti spostare. Aria. Stai calmo. Dai, dai, dai. Tu hai tolito, tolito dal cazzo o ti prendo a calci nel culo? Qual è il problema? Abbassa la cresta. È perché c'è la divisa e vuoi stare in ospedale e ostruire il passaggio, stronzo. No, c'è uno spazio. E allora, non mi rompe il colore, non le sposti, hai capito? Abbassi la voce. Se no cosa fai? Titto. Cosa fai se no? Eviti. Cosa fai se no? Cosa fai se no? Testa di cazzo, cosa fai se no? Cosa cazzo fai se no, eh? Cosa fai se no? Cosa fai se no? Cosa fai se no? Cosa fai se no? Eh, poliziotto di merda. Cosa fai se no? Alzate le mani voi due, invece. Alzate le mani voi due, alzate. Dai, pezzo di merda. Eh, c'hanno i pagliacci, facciamo. Dai, portali! Portali via. Sì, sì. Tutto bene. Oddio. Sassi. Tutto bene, ha dolore da qualche parte. Vado a fare i pagliacci, mi stanno ful cazzo, guarda. Ho una ferita aperta. Sì, intanto ful cazzo. Io non volevo fare tutti i penali. Sai che lui la risposta, sai? Quando fai quattro, diviso tre cosa ti manca. Lo sai? Bravo, bravo. Bravo! Uno fatto. Fatto uno, fatto uno. Stai latino. Ma dov'ha? Si chiamava lei, mi ricordo un cazzo Strange, S-T-R-A-N-G Da quant'è che lavora nel dipartimento? Tu da lì cerca di piccare quando lo riuscano Eh vedi, adesso dovevi sparare Ecco, non ho fatto L'avete fatto? L'avete fatto? Sì, l'ha fatto, però è il left pick Cioè, vedi un po' Razio cosa devi fare là Eh, io nulla Cioè, stai attento più che altro Io dovrei andare da C e C che non dovrebbe stare lì Vabbè, ormai siamo tutti qua dietro C, mi copri, C, mi copri Oh, C Su, ciamelo Vai qua sopra, qua a destra su parcheggio A destra su parcheggio, qua sopra Voi coprite in giro, coprite in giro Ma adesso c'è la polizia Oh, oh, che cazzo Via, 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 via Sì, è vero? E sparano, figa Ehm, vabbè 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 Ma chi è il suo paurrent? Ci rimangono secchi E niente che quello ci è rimasto secco Aiuto Meno meno che non ho finito la frase Oh, cazzo Sì, siamo a tre strike Aiuto